gentili spettatori di appallo 2 stiamo per adentrarci lì sopra per vedere che cosa c'è io ci sono già stato un paio di volte ma ci tenevo a raccontare questa esperienza che si trova lì sopra quindi insomma adesso vi ci porto e vediamo che cosa c'è viene di andare allora saliamo un attimo indisturbati qui però mi serve ecco un attacco al palo porco giuda ok ci siamo eccoci qui allora saliamo qui che voglio illustrare voglio illustrarvi proprio che cosa c'è qui sopra a parte che è cresciuta un po l'erba dall'ultima volta l'ultima volta è cresciuta un po l'erba e quindi successo qualcosa di diverso però è qui ci sono appunto i binari no ci sono i binari della stazione semplicemente volevo mostrare insomma quello che c'è qui ovvero ovvero proprio i binari e qui c'è ovviamente qua c'è il limite però ero interessato appunto a raccontare il fatto che i treni passano da qui qui proprio qua sopra c'è l'immensa galleria però vedete qui ad esempio guardate cosa abbiamo trovato che cazzo è questa roba ci abbiamo trovato cos'è questa cioè vedete pure qui nonostante ci troviamo in culo al mondo praticamente buttano comunque rifiuti e io dico dai treni dai finestrini dei treni li buttano ma secondo la mia teoria da quelle case li buttano i rifiuti perché scusami da dove cazzo possono buttare stelacche oppure vengono qua sopra no e vengono a mangiare ea ea far casino perché non ci sono altre alternative cioè veramente una roba allucinante dall'altra parte non penso ci sia molto da vedere lì c'è sì e nulla di che ma vabbè comunque no ci tenevo solo adesso andiamo un po in là e qui tutto distrutto tutto spento tutto distrutto un po triste però comunque vedi un bel posto a parte tutto serve un bel posto la c'è un'altra galleria e niente adesso qui volevo un attimo farvi leggere ecco parte qua volevo immortalare proprio guarda dopo lo schifo le cacche la sborra non so cosa sia questa roba guarda che schifo tutti i fazzoletti sporchi di schifo questo cos'è un ratto sembra mamma mia che schifo guarda proprio disgustoso ma appunto volevo leggere questo qui appunto non è il il comune di rappallo ma è quello di san michele ma non è il comune ma si chiama san michele c'è troppa luce forse ecco san michele san michele a volendo adesso volevo aspettare il treno per far vedere da vicino come passa il treno quindi aspettiamo qua che passi un treno e poi vi riaggiorniamo sta passando il treno da che binario il problema è capire da che binario passi il treno spero che sia eccolo parte proprio da qua eccolo qua il treno eccolo qua il treno incredibile a distanza a distanza proprio e se ne va lì dentro e se ne va lì dentro chissà dove va chissà dove andrà poi e quindi insomma interessante secondo me questo posto non so se riuscite a sentire ci sono anche le vibrazioni come vedete proprio di dell'oscurità allora lì c'è un oggetto interessante attraversiamo sopra i binari per andare a vedere questo oggetto strano a parte qui ci sono degli oggetti abbastanza intriganti questo è un ammasso un tessuto un tessuto a quanto pare qui c'è proprio un tessuto qui dei degli oggetti strani ma interessava sapere che cos'è questa roba esattamente perché non so cosa sia è tipo telecom un contatore della telecom praticamente guardate qua c'è pure un sedile guarda un sedile pensate un sedile uno volendo potrebbe buttare sto sedile lì vedere che succede cioè qui c'è proprio un sedile di un treno assurdo cioè guardate che roba il sedile di un treno qui c'è rs è una bottiglia di birra quindi qualcuno qua è pure venuto a bere e ha messo la bottiglia lì mentre evitato l'accesso ovviamente lo sappiamo già qui ecco vedete qua ci sono proprio pezzi credo di gommoni questo sento arrivare il treno qui il proprio bottiglie di zuppa bottiglie di zuppa scartoffie un botto di roba interessante comunque andiamo avanti verso questa via perché sono un po curioso di vedere che cosa c'è esattamente da queste parti comunque nulla qua c'è un coso strano un po questa via ecco qua arriva il treno sarà che lato arriva adesso arriva di lì arriva di lì quindi io mi sposto di qua e non sono sui binari eccolo qua treno passa sembra a distanza molto ravvicinata mi ha suonato pure mi ha mandato a fanculo ma vedete ci sono tutte le ferrovie qua c'è un sacco di roba di macerie qui ancora qui spazzatura vabbè io direi di oltrepassare i binari e perché abbiamo raccontato abbastanza e non vorrei rischiare di essere investito ma io aspettavo solo l'arrivo del treno per poter ripassare perché da un treno all'altro diciamo non si rincorrono quindi diciamo che questo reportage è stato comunque molto rischioso per la mia vita ma ne è valsa la pena e niente grazie mille e alla prossima